Ciao Alissa, che stai facendo? Stai giocando. Ah, brava. Senti, la mamma si va un pochino a riposare. Tu resti qui tranquilla a giocare? Sì. Mi raccomando, non uscire dalla cameretta, stai qui tranquilla e gioca. Va bene? Sì. Ciao, a dopo. A dopo. Ciao. 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 Ah, Alissa, che ci fai qua? Ah, stai portando a sposto il tuo cagnolino? Sì. Oh, che carino. Proprio carino questo peluche. Vabbè, dai, allora torna pure in cameretta a giocare. Io torno a letto. Ciao. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Che brava bambina. Così obbediente. coro. Ciao. Giallo. Avivare la pasta Coroè? Coroè? Coroè dentro? Coroè? Coroè? Coroè o Ros 07 bronx somb tuning Church german. Grazie a tutti i nostri ritori. Grazie a tutti i nostri ritori. Ciao! Ciao!